Una cosa importante qual'è? Essere sempre umili, se si vuole imparare, non è nel senso che io sono bravo e devo fare quello che non ce la sa, umiltà in un altro senso, sono con senpai Bruno, lui tira, mi ha fatto male, perché non è che per forza non mi deve fare male, l'umiltà qual'è? Senpai cortesemente un po' più piano, perché così ne riesco a fare dieci, e sto allenando, in quel modo là, e comincio a stortare. E non alleno nemmeno io, ricordatevi sempre, il vostro UK, preparate, o il vostro partner, quando fate sparring, è il vostro migliore insegnante. Solo qui attento, che questa è l'ossata, quindi tira pure forte, però sulla pancia nessuna cosa, grazie.